Salve, sono Maria Rosa Sfaltro, titolare del Centro Benessere Marisfa qui a Policoro. Salve, siamo nella cabina dove viene effettuato il trattamento a luce pulsata che serve per la fotoepilazione, l'eliminazione dei peli superi e il fotorinciovanimento che agisce sulle macchie cutanee, sui pori dilatati e sulle rughe. Effettuiamo il fotorinciovanimento con la luce pulsata. Questo trattamento consiste nell'irraggiamento di adeguate lunghezze d'odde ed impulsi sulle viscromie superficiali e sugli stati più profondi del derma per portare miglioramenti sulla trama cutanea e sulla pigmentazione. Qui da Marisfa effettiamo tutti i trattamenti estetici e di benessere. Offriamo pagamenti personalizzati. Vi aspettiamo per renderli ancora più belli. Grazie.